Continuando anche oggi con le nostre 100 cose su One Piece, voglio raccontarvi di sogni infranti, nello specifico il mio sogno infranto con One Piece, ma la prendo molto larga, ovvero One Piece racconta, e questo ormai lo stiamo dicendo tutti i giorni, di questo personaggio, di questo ragazzo, che ha come sogno quello di diventare il re dei pirati e soprattutto di creare una ciurma che possa rivaleggiare con quella di uno dei suoi mentori, ovvero la ciurma di Shanks, e per raggiungere il suo obiettivo, quindi per realizzare questo sogno, deve giocoforza infrangere i sogni degli altri che pure hanno lo stesso identico obiettivo che si è posto Rufi. Il fatto che di volta in volta il nostro amichetto col cappello di paglia si debba scontrare fisicamente ma anche ideologicamente con persone che sono all'opposto dello spettro, di nuovo morale, che ha lui, ti fa capire che alla fine vincerà solo colui che ha sul serio la più grande e forte ambizione, in senso proprio pieno del termine ambizione, no? L'ambizione del re conquistatore o l'ambizione dell'osservazione, eccetera, ma soprattutto colui che ha la più ferrea forza di volontà. Naturalmente questo è anche uno dei punti cardini di qualsiasi fumetto giapponese dedicato a un pubblico di ragazzi. Però dall'altro lato c'è proprio, ecco, questa distruzione, questa dissoluzione del sogno. Pensate per esempio a Doflamingo, faccio proprio uno degli esempi più lampanti, che vuole o voleva diventare re dei pirati, voleva diventare re del mondo e il suo sogno, nonostante tutto, crolla davanti alla determinazione di Rufy che lo sconfigge e che quindi poi mette in moto quella che è la sua caduta. Però, ritornando al nucleo di questo piccolo video, non mi dilungherò tantissimo, anch'io ho un sogno infranto. E il mio sogno infranto è la personificazione della personificazione dei sogni infranti all'interno di One Piece, ovvero Gaimon. Gaimon è un personaggio meraviglioso perché Oda, piazzandocelo proprio nella fase iniziale di One Piece, ti vuole far capire che sognare di diventare re dei pirati, avere un sogno, avere un obiettivo, non sempre equivale a riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Sul serio, da questo punto di vista, l'importante forza è il viaggio. Nel mostrarci questo esploratore che rimane bloccato su un'isola, perché è caduto dentro a un forziere e il suo sogno è quello di raggiungere altri forzieri. E non lo raggiunge non perché sia incapacitato da questo handicap, ma perché in cuor suo sa che quei forzieri, che quel tesoro è vuoto, ma vuole ancora illudersi di poter avere il tempo di riuscire a raggiungere il proprio obiettivo, è anche una delle grandi menzogne che noi esseri umani ci diciamo dall'alba dei tempi, ovvero che abbiamo tutto il tempo del mondo. Non è vero. Il tempo prima o poi finisce, le illusioni finiscono o sono destinate a infrangersi in mille pezzi. E la mia illusione nei confronti di Gaimon che si è infrante in mille pezzi è quello di vedere Gaimon insieme a Rufy e gli altri. Sarebbe stato bellissimo, anche perché Rufy, forse in pochi se lo ricordo, forse voi non ve lo ricordate, io me lo ricordo. Rufy aveva invitato Gaimon a unirsi alla sua ciurma. Quanto sarebbe stato bello. Gaimon insieme a Usop, a Nami, Sanji e tutti gli altri, Ciopper, immaginatevi i duetti tra Ciopper e Gaimon, Usop e Gaimon, Usop, Gaimon, Ciopper e Rufy. Capolavoro. Però, il mio grande sogno è infranto. Peccato. Sarebbe stato bello, ma c'è anche da dire che è per fortuna di Gaimon. È riuscito a trovare la sua donna ideale. Siete tutti chi è? Sarfunkel e quindi, no, anche questa cosa, no, Simon e Garfunkel, quindi lui è affuso, oh, criminale e tutto è bene, quel che finisce bene, tranne che per me, perché mi aspettavo Gaimon. Volevo proprio vederlo Gaimon, mannaggia la morte, e invece no. Però questa, ecco, era davvero una delle mie cose su One Piece. Ditemi voi. Io Gaimon lo adoro, non ci posso fare niente, è uno dei miei personaggi preferiti. Non so voi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Alla prossima. Ciao.